In A1 in direzione Roma code per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Firenze in Pruneta e tra Firenze in Pruneta incisa Reggello. Code in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. In direzione Bologna code a tratti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico. In A11 4 km di coda tra Firenze Ovest e Peretola in direzione Firenze. Code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Filippilli code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. A Firenze sul viadotto Marco Polo fino a 15 giugno per lavori restringimenti di carreggiata in orario 10, 16 e 30. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!